E crea problemi. Ecco qua, ha risolto, vedi, il maestro sa cosa fare. Va bene, allora, un ballo d'undu con una coppia di Olmedo, quindi grazie anche per la vostra partecipazione, siete lontanissimi, quindi grazie infinite. Guido Vercellino, seguitela anche la tecnica, come il papà, proprio lo strumento sull'occhia, non usa le cinghie, proprio assolutamente nulla. Vediamo e sentiamo soprattutto. Guido Vercellino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.